Salmo 50 Salmo di Asaf Il potente Iddio, l'Eterno, ha parlato e ha convocato la terra da sollevante al ponente. Da Sion, perfetta in bellezza, Dio è apparso nel suo fulgore. L'Iddio nostro viene e non se ne starà a Cheto. Lo precede un fuoco divorante, lo circonda una fiera tempesta. Egli chiama i cieli di sopra e la terra per assistere al giudicio del suo popolo. Adunatemi, dice i miei fedeli, che han fatto me con un patto mediante sacrificio. E i cieli proclameranno la sua giustizia, perché Dio stesso sta per giudicare. Ascolta, popolo mio, ed io parlerò. Ascolta, o Israele, e io ti farò le mie rimostranze. Io sono i Dio, l'Iddio tuo. Io non ti riprenderò a motivo dei tuoi sacrifici. I tuoi olocausti stanno dinanzi a me del continuo. Io non prenderò giovenchi dalla tua casa, né becchi dai tuoi ovili, perché mie sono tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che per i monti ha migliaia. Io conosco tutti gli uccelli dei monti, e quel che si muove per la campagna è a mia disposizione. Se avessi fame, non te lo direi, perché il mondo con tutto quel che contiene è mio. Mangio io carne di tori o bevo io sangue di becchi? Offri a Dio il sacrificio della lode e paga all'altissimo i tuoi voti, e invocami nel giorno della distretta. Io te ne trarrò fuori, e tu mi glorificherai. Ma quanto all'empio, il Dio gli dice, Se vedi un ladro, tu ti diletti nella sua compagnia, e sei il socio degli adulteri. Tu abbandoni la tua bocca al male, e la tua lingua intesse frodi. Tu siedi e parli contro il tuo fratello, tu difami il figlio di tua madre. Tu hai fatto queste cose, ed io mi son taciuto, e tu hai pensato che io fossi del tutto con te, ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Deh, intendete questo, voi che dimenticate Dio, che talora io non vi dilani e non vi sia chi vi liberi. Chi mi offre il sacrificio della lode, mi glorifica, e a chi regola bene la sua condotta, io farò vedere la salvezza di Dio.